Il segretario regionale CISL Trasporti, Amedeo Benigno, benvenuti. Buongiorno, buongiorno a voi. E qui per parlarci di questa iniziativa e di questa sorta di tour che state portando in giro per la Sicilia, per vedere quali sono le condizioni del trasporto ferroviario nella nostra regione. L'iniziativa si chiama Alla ricerca di un treno perduto. Di cosa si tratta esattamente? Beh, intanto noi ancora cerchiamo parecchi treni, nel senso che non li abbiamo trovati. Si tratta di un tour che oggi compie la venticinquesima tappa, siamo quasi al sedicesimo giorno di giro. Tocchiamo il territorio di Catania perché vogliamo sensibilizzare le istituzioni, ma soprattutto le ferrovie dello Stato, a mettere in servizio i treni che ci vogliono per la Sicilia. Faccio un esempio, ci sono parecchi buchi, ci sono treni che sono decurtati nella loro composizione, quindi la gente viaggia in piede e soprattutto ci sono molte, ma molte cancellazioni. Quindi il nostro giro è cercare di convincere le ferrovie dello Stato a una nuova politica commerciale e questo camper ci sta permettendo, devo dire anche in maniera intraprendente, visto che sta affascinando un po' tutto il territorio, di andare in tutte le stazioni. Ripeto, oggi tocchiamo Catania, ma nel pomeriggio saremo in alcune stazioni che fanno parte del territorio catanese, ma che sono proprio nell'entroterra. Quali sono le stazioni che avete già toccato? Noi siamo partiti da Palermo, poi abbiamo fatto Trapani, Marsala, Castelvetrano e poi abbiamo fatto un pezzo dell'Agrigentino, un pezzo di Caltanissetta, ieri siamo stati a Messina, la Palermo-Messina l'abbiamo quasi toccata tutta e oggi saremo qui a Catania. Nel pomeriggio dovremo andare verso Acireale o verso Libertinia. Vediamo un poco come si mettono gli orari. La situazione che avete trovato a Catania qual è? La situazione che abbiamo trovato a Catania è di impoverimento rispetto all'offerta commerciale. Noi diciamo chiaramente che Catania è un territorio che merita, ma lo merita per la composizione geografica, anche per un'offerta commerciale che deve essere più assidua. Ci sono pochissimi collegamenti con il capoluogo di Palermo, manca un collegamento con l'aeroporto Fontana Rosso, ma soprattutto il treno, ecco questo è quello che vorremmo dire all'azienda, il treno che va a Palermo deve essere un treno non stop, non può essere un treno che ci impiega 4 ore e 30 perché ci sono dei cambi in itinere. Questa è una linea che con l'attuale infrastruttura si può impiegare comodamente in 2 ore e 40. Ma avviene di farlo in 2 ore e 40 prendendo il treno in questo momento? In questo momento c'è solo una coppia di treni che fa Palermo-Catania e Catania-Palermo. Avviene se il treno fa le tre fermate, non avviene perché ci sono parecchi rallentamenti su cui RFI dovrebbe incidere e perché si fa qualche fermata in più. Quindi in questo momento le 2 ore e 40 sono ipotetiche? Non sono ipotetiche, qualche treno ci impiega veramente 2 ore e 40, quando però c'è una condizione normale, noi insistiamo per questi treni non stop, abbiamo l'esempio di Roma-Fiumicino, Roma-Termini, ci sono dei treni non stop e poi ci sono i treni che toccano i paesi interni. Ci sono province d'eccellenza in questo momento tra quelle che avete toccato? Assolutamente no, è un walzer quotidiano, oggi starà bene il territorio di Catania perché non cancellano e non sopprivano i treni perché i treni sono riparati. Domani mattina starà bene Messina e non starà bene Catania. Non è una società FS che ha una politica di nuovo materiale rotabile e qui lo abbiamo visto ieri mattina in una stazione della Sicilia, la stazione di Villa Franca, dove 70 viaggiatori hanno viaggiato all'impiedi e cioè il treno doveva avere due treni minuetto, due pezzi di treni minuetto, quindi poteva trasportare 280 persone, se ne è presentato solo uno, sono salite 220 persone e 70 viaggiatori sono andati all'impiedi. Questo non è proprio il massimo che potremmo aspettarci, anche perché il turismo nella nostra regione dovrebbe essere potenziato anche tramite i collegamenti. È il caso di Cefalù, noi abbiamo avuto un'indiscrezione, e cioè che parecchi tour operator stanno tentando di portare a Cefalù, nel territorio di Cefalù, 5.000 viaggiatori e 5.000 turisti al mese. Abbiamo assistito anche a Cefalù a una questione incresciosa, cioè dei treni insufficienti dove gli studenti non potevano salire perché erano molti e poi abbiamo assistito a parecchi buchi per Palermo. Ecco perché abbiamo chiesto, una delle cose che chiederemo è l'allungamento dei treni che da Termini Merese porta a Cefalù. Ma c'è una ricetta per migliorare in tempi brevi la situazione attuale, secondo voi? Sì, la buona volontà dell'azienda. La buona volontà dell'azienda nel costruire un grafico orario tenendo in considerazione che deve utilizzare il massimo contributo che attualmente dà lo Stato alle ferrovie. E attenzione, quando parliamo di contributo, parliamo del contributo normale, non stiamo parlando di contratto di servizio. Quello viene un minuto dopo. Eppure ci sono dei progetti che consentirebbero di potenziare la linea in tempi umani. Sono cose fattibili? Faccio un esempio, sono delle cifre un po' per portare un esempio. Se nel 2020 la Palermo-Catania si deve impiegare in due ore e il costo è di 2 milioni e 400 mila euro, vuol dire che facendo il conto, nel 2020 40 minuti di anticipo, di velocizzazione di linea, forse costerebbero quasi 60 milioni al minuto. E mi pare che siano un po' troppe. Quindi intanto sfruttiamo le attuali infrastrutture, che sono quelle che ci consentirebbero di fare, ma anche la Catania Messina, in orari un po' più decenti di attualmente, considerato poi il problema delle frane che ci sono state. Ma soprattutto bisogna vedere se poi questi finanziamenti del CIS non sono soldi che lo Stato e l'azienda ripropone.